Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi sto giocando con il mio amico Elec07 Che ha appena trovato Jackie Oggi vorrò fare il mio secondo box opening Sperando di trovare almeno Home Gadget, Star Power Oppure il nuovo Brawler, mi va bene qualunque cosa Ma iniziamo dalla prima cassetta Ok niente Niente Ok non ho ancora niente 10 di massa Vabbè mi apro la cassa enorme Ti prego dammi un nuovo Brawler 100 monete, presiste tonde tonde Ok, 11 è il primo Ok, Mr. P12 Aia ma 5, 14, niente 200 la doppia gettoni Bello Ok Fammi trovare un nuovo Brawler 8 gemme Fantastico Nuovo Brawler Niente Ti prego voglio un nuovo Brawler Dai Ma perché Ma perché Ok, ancora niente Ok, ma perché Novit Novit« Novit Novit